Davide, mi spiace chiedertelo, ma a questo punto dovremmo pensare che per Fabregas è finito o ci state ancora provando? Ci stiamo provando. A quanto pare quindi lo United di Moyes ha ereditato da Ferguson la fissazione per certi obiettivi di mercato. Dopo che il Barça ha rimandato al mittente già un paio di offerte, l'ultima da 30 milioni di sterline più bonus vari, i Red Devils dovranno inventarsi qualcosa di nuovo ed in fretta, visto che dopo la serie di infortuni che ha colpito alcune delle stelle dello United, la panchina dello scozzese inizia a sembrare parecchio vuota. Rooney è tornato a correre, probabilmente al livello che ci aspetteremo da lui a questo punto della preparazione. Questa settimana tornerà ad allenarsi normalmente. Di chi è qui in Giappone invece abbiamo messo a riposo Van Persie, solo per precauzione, carica qualche problema agli adduttori, ma sta migliorando. Domani in campo non ci sarà, ma per tutto il resto direi che va bene, dovrebbe riprendere ad allenarsi già dal fine settimana. Nonostante Rex Everton continui ad ostentare sicurezza all'inizio del campionato di Premier e la difesa del titolo, sono davvero dietro l'angolo. Tra tre settimane si farà sul serio le Red di Sir Alex Ferguson. Farà bene a chiudere l'estate con un gran colpo. Tecnico avvisato, mezzo salvato.